L'origine dell'uomo, un viaggio nel passato alla ricerca delle nostre radici. L'origine dell'uomo è una delle domande più affascinanti e complesse della storia dell'umanità. Nel corso dei millenni, gli esseri umani hanno cercato di comprendere le nostre radici e tracciare la storia del nostro sviluppo come specie. In questo articolo, esploreremo le teorie sull'origine dell'uomo e i progressi nella nostra comprensione dell'evoluzione umana. Teoria dell'evoluzione e l'origine dell'uomo. La teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, formulata nel XIX secolo, rappresenta una pietra miliare nella nostra comprensione dell'origine dell'uomo. Secondo questa teoria, tutte le forme di vita sulla Terra, compreso l'uomo, discendono da un antenato comune e si sono evolute attraverso un processo di selezione naturale e adattamento all'ambiente. Le scoperte nei campi dell'archeologia e della paleontologia. L'archeologia e la paleontologia hanno giocato un ruolo cruciale nel rivelare i nostri antichi progenitori e la loro storia evolutiva. Scoperte di fossili e reperti archeologici hanno permesso agli scienziati di stabilire una cronologia approssimativa dell'evoluzione umana e identificare specie estinte di antichi ominidi. L'homo sapiens e le prime migrazioni. L'homo sapiens, l'attuale specie umana, è emerso in Africa circa 300.000 anni fa. Le prove suggeriscono che gli esseri umani moderni hanno avuto origine in Africa e hanno iniziato a migrare verso altre regioni del mondo intorno a 70.000 trattino, 100.000 anni fa. Queste migrazioni hanno portato l'homo sapiens a colonizzare diverse parti del globo. Relazione con altre specie di ominidi. Nel corso della nostra evoluzione, diverse specie di ominidi hanno coesistito e si sono incrociate. Tra queste specie, ad esempio, Homo neandertalensis, l'uomo di Neandertal, è stata una specie affine ma distinta dall'homo sapiens. Studi genetici hanno rivelato che alcuni gruppi di umani moderni hanno un piccolo contributo genetico da parte dei Neandertal, suggerendo incroci tra le due specie. L'importanza dell'evoluzione culturale. Oltre all'evoluzione biologica, l'umanità ha sviluppato una complessa evoluzione culturale. L'invenzione del fuoco, l'agricoltura, la scrittura e altre scoperte hanno trasformato la società umana e accelerato il progresso tecnologico e culturale. Le nuove frontiere della ricerca sull'origine dell'uomo. La ricerca sull'origine dell'uomo è in continua evoluzione. Nuove scoperte archeologiche, analisi del DNA antico e avanzamenti tecnologici nel campo della genetica stanno rivelando sempre più dettagli sulla nostra storia evolutiva. Tuttavia, molte domande fondamentali rimangono ancora senza risposta e la ricerca continua ad essere un campo dinamico e stimolante per gli scienziati di tutto il mondo. Conclusioni. L'origine dell'uomo è una storia affascinante e complessa di adattamento, migrazione e evoluzione culturale. La teoria dell'evoluzione ci offre una spiegazione scientifica dell'origine della nostra specie e delle relazioni con altre specie di ominti. Le scoperte archeologiche e paleontologiche hanno permesso di ricostruire la nostra storia evolutiva e di gettare luce sulle nostre radici ancestrali. Con ulteriori ricerche e scoperte, la nostra comprensione dell'origine dell'uomo continuerà a evolversi. rivelando nuovi dettagli sulla nostra incredibile storia come specie e la nostra connessione con il resto del mondo naturale. Rot prophecy Retri Potenza Brale Tu Potenza Per